Allora, Gigi aveva una percentuale di rigori parati in gioventù pazzesca, mi sono andato a rivedere tutti i dati, parava tipo il 35% dei rigori che gli tirano a conto. Poi andando avanti con il tempo, diciamo che parare i rigori pur avendoci vinto un mondiale non è stata il suo skill più importante, così come non lo è per noi. Facciamo i conti, 27... 72, 72 e 72, devo dare la preferenza. Qui gli do un 10 campione del mondo, ecco il 10 per il mondo, vince Gigione. Dici per me vinci sempre tu lo sai, vinci sempre tu.